Al termine del suo intervento sul palco, il leader di Forza Italia ha inciampato su una pedana di legno ed è caduto. Lo suo guardia del corpo militante più vicino lo hanno immediatamente aiutato ad alzarsi. Berlusconi, sollevata la pedana e mostrandola al pubblico, ha scherzosamente commentato la messa alla sinistra. Poi è sceso dal palco, ha attraversato il teatro accompagnato dalla compagna Francesca Pascale e si è poi allontanato. L'avete anche sentito la messa alla sinistra.